Nella mia esperienza con i tarocchi ho visto che esistono due tipi di lettori fondamentalmente, quelli che io chiamo i lettori da fiera o da festival e poi ci stanno i lettori, vorrei dire preparati, ma diciamo professionali. Andiamo un attimino a capire la differenza. I lettori da fiera sono quelli che alimentano quel clima folcloristico che già è attaccato al tarocco, quindi sono quelle persone che puoi ritrovare appunto in fiere, in festival, ma che esercitano il lavoro in un modo più folcloristico che utile. E lì c'è realmente un problema perché indipendentemente poi dal consulto, il consultante una volta finito il momento, poi chiude tutto, poi ritorna a quello che sta facendo con la sua birretta e mano, il suo vice versa, poi dipende ovviamente dal festival, però non ha molto valore, non riesci realmente ad ispirare le persone, non riesci a dargli quell'apporto intuitivo, quell'illuminazione che magari le serve. Ed è un problema, perché se non vieni preso sul serio, se non hai alcun tipo di impatto nella vita della persona alla quale stai leggendo le carte, se nessuno segue i tuoi consigli, hai lo stesso peso di un gioco dell'Xbox. Nel momento è simpatico, è ludico, ma chiuso, spento il momento è tutto passa. Esiste poi un altro modo di rapportarsi a Darocchi che a mio avviso è decisamente più incisivo ed è quello di un lettore ispirato, che ti prende per mano e ti aiuta a prendere decisioni più importanti, vivere una vita ispirata, passare un'esistenza in cui sviluppi delle relazioni in base a chi sei, a che vuoi, a quello che ami, tagliare i traguardi e via dicendo. Io credo che questo tipo di lettore sia decisamente meglio, se non altro perché il valore delle sue letture non sparisce con la fine del consulto, ma rimane incollato al suo utente, al consultante, perché durante la lettura, a livello psicoinconscio, il consultante ha fatto un click, ha avuto un'illuminazione, ha ricevuto un input che è ora in grado di spronarlo, a fare meglio, raggiungere un obiettivo, riprogrammare delle situazioni che erano magari bloccate, quindi attraverso questa riprogrammazione risolverle. Ora, la domanda è, che lettore vuoi essere tu? Il lettore da fiera, il lettore da festival, oppure un lettore preparato e professionale? Ovviamente non c'è uno migliore di un altro in generale, poi se lo chiedi a me, io credo che, a meno che tu non sia intenzionalmente lanciato su una situazione truffardina o superficiale, la risposta è semplice, il lettore da fiera sta al folklore, il lettore invece ispirato e professionale è un attimino una figura un pochettino più di spicco. Ma non ci dovrebbe nemmeno essere il dubbio, se tu hai la possibilità di togliere i tarocchi dal contesto folcloristico e metterli in un contesto iniziatico, per il quale diventano uno strumento che aiuta la persona a creare la vita che amano, aiutare la persona a prendere delle decisioni migliori, aiutare l'utente a vedere un nuovo percorso, che magari è più consono alle sue esigenze, Come fai a scegliere di essere un lettore da fiera? Per diventare un lettore esperto ovviamente hai bisogno di sviluppare una certa sicurezza con i tarocchi, allora la domanda diventa come sviluppo una certa sicurezza? Le strade sono due, la prima è la formazione e la seconda è l'esperienza, queste due strade poi caratterizzano tutti i percorsi di vita che vuoi approfondire. La formazione che cosa significa? La formazione significa lo studio, libri, corsi, videocorsi, tu sceglierai la modalità che più ti interessa, non fare l'errore di credere che con i tarocchi puoi agire da autodidatta, questa è una stupinata che ti porterà nel migliore dei casi ad abbandonarli perché tanto non funzionano, nel peggiore dei casi a credere di aver ricevuto un dono dalla tua famiglia o diventare un fondamentalista. Come tutte le dinamiche anche con i tarocchi c'è bisogno della condivisione all'interno di un gruppo o comunque con altre persone. Esperienza invece come si fa facendo le letture? Ma attenzione anche qua perché rischi di fare un errore, le letture si possono fare a parenti amici, sì le puoi fare a parenti amici, però non sono funzionali a sviluppare un'esperienza con lo strumento. Questo perché il parente o l'amico non ti farà mai credito dell'autenticità, della sincerità, non vuole offenderti, quindi cercherà sempre il modo gentile per dire come hai lavorato bene. In realtà arriverà un punto del tuo percorso in cui hai bisogno di avere delle persone che ti danno dei feedback sinceri, immediati, tangibili e soprattutto dei riscontri reali. Questo ti aiuterà da un lato ad avere una confidenza intuitiva con il tarocco, ma dall'altro a sviluppare anche una certa metodologia di parola, un certo pattern linguistico che a tanti lettori manca. Difatti una cosa che non si dice mai è che moltissimi lettori di tarocchi colgono il messaggio mandato dal tarocco in fase di lettura ma non sanno come dirlo. Ecco perché in definitiva se vuoi percorrere la strada della formazione ti consiglio la meravigliosa scuola di DM, ma cos'altro? Se no, se invece vuoi ricorrere all'esperienza, quindi già ti sei formato altrove, mi raccomando non fare letture ossessive e compulsive solo a fratelli, sorelle, madri, padri e zii, perché non stai realmente procredendo, ma soprattutto a forza di fare sempre le stesse domande con le stesse persone potresti deformare non solo la conoscenza del tarocco, ma anche le situazioni a tutto discapito della tua vita.